l'Europeo 2018, mi ero fidato nel mangiare del salmone, andavamo in Scozia e ho detto, in Scozia cazzo il salmone è buono non posso sbagliare qui ed era il giorno prima del cento stile la notte l'ho passata, non vi dico come ho chiamato il dottore tra il mattino per farmi dare qualcosa per lo stomaco tipo Michael Jordan, so se lo sai esatto, flu game, esatto, uguale, cioè intossicazione completa infatti quella mattina mi ero fatto dare, non mi ricordo che farmaco, perché mi sono svegliato e ho detto, chi è che fa la gara adesso infatti io ho fatto la batteria per fortuna contro l'Europeo possono gareggiare quattro atleti per nazione a gara invece il mondiale è solo 22 come le Olimpiadi però di quei quattro atleti solo 22 possono passare in semifinale esempio, noi italiani facciamo il primo secondo terzo tempo delle batterie il terzo rimane fuori è una regola, insomma io quell'anno lì cioè quell'anno lì stavo malissimo infatti ho detto, cerchiamo di fare la gara in qualche maniera non avevo energie, faccio la batteria faccio un tempo tremendo guardo alla fine e gli altri due ragazzi avevano fatto molto peggio di me